Il tema del trasporto degli alunni disabili alle scuole superiori è un tema particolarmente sentito sul territorio. Anche quest'anno la provincia è riuscita a coprire tutte le richieste fatte dai comuni alla provincia e stanziando il 100% di quanto richiesto dai comuni per il trasporto di questi disabili. I comuni che hanno fatto domanda sono 44, il numero dei disabili è 73, la cifra corrisposta è di 166.200 euro.